Ciao sono Gianluigi Bonanomi e tengo un corso di net marketing presso l'Accademia Santa Giulia di Brescia dove i miei ragazzi quest'anno mi hanno dato grandi soddisfazioni, hanno fatto dei lavori di gruppo ogni volta che ci vedevamo e davo uno spunto per trovare un qualche modo un po' originale, visto che è un corso praticamente di grafica e comunicazione per raccontare i temi del digitale e soprattutto della comunicazione digitale. E vi faccio vedere un esempio molto carino. Esiste uno strumento che si chiama SnapR che permette di fare l'analisi della foto di LinkedIn e che ti dà una serie di parametri, un giudizio, tra l'altro numerico in centesimi, ma una serie di parametri per capire dove non va bene la fotografia. Beh i miei ragazzi si sono inventati questa cosa di fare l'analisi della foto della Gioconda, quindi il quadro della Gioconda di Leonardo Da Vinci per vedere se su LinkedIn poteva passare le forche caudine di SnapR e no, perché se il risultato è 53 direi proprio di no, io di solito dico oltre i 70, stiamo ragionando 53 no, ed effettivamente vengono fuori dei problemi che sono legati prevalentemente a quel sorriso accennato che non è sufficiente su LinkedIn, bisogna per i neuroni specchio far vedere i denti, e poi quello sfondo che non è molto omogeneo, e poi altri errori di composizione, di saturazione e tutto il resto che hanno trovato i ragazzi e che non si saprei neanche spiegare bene. Hanno fatto una cosa molto carina, hanno ristrutturato la faccia della Gioconda e è venuto fuori che così facendo, un bel sorriso, sfondo omogeneo e inquadrare prevalentemente il viso, a quel punto si passa a 82, che va benissimo su LinkedIn. Quindi fate con i miei ragazzi, ristrutturate la vostra foto come se fosse quella della Gioconda, un po' più sorridente, anche se così oggettivamente è un po' inquietante. Buon LinkedIn, ciao!